Ne abbiamo fatta di strada ragazzi, siamo arrivati alla sesta parte di questo settimo livello Tartarughe Ninja Mutanti Amanattan. Noi siamo sempre sull'edificio della TCRI, ma ancora non si riesce a trovare il generale Krang. Ricordatevi che Gabriosta è sempre con le Tartarughe Ninja. Io queste Tartarughe le ho vissute fin dalla nascita. Io vi consiglio di bere la bevanda velocizzante, così andate veloci come fulmini. Sembra che sia il momento decisivo questo. Guardate che succede, avete visto? I guerrieri di pietra della dimensione X e gli UFO Krang stanno facendo un ultimo tentativo per fermarci, ma noi li distruggiamo e si continua a proseguire. Dovrò passare alle maniere forti come sempre. Questi nemici ci sono sempre in continuazione, non mollano, ci inseguono un branco di cani in calore. Di solito il generale Krang si arrabbia per uno nulla. Oltre agli UFO Krang e i guerrieri di pietra ci sono anche gli acchiappatopi. Attenzione perché questi nemici hanno anche dei grossi martelloni pericolosi ma anche potenti. Forza, beccatevi questo. Questi stupidi nemici hanno scelto un brutto giorno per provocare Gabriel Oster. Questo cannone a raggi è fortissimo. Ora bisogna salire però. Ogni volta che distruggiamo tutti questi nemici la barriera blu si disattiva. bella questa pioggia di fuoco che ha Michelangelo. Così almeno facciamo un sacco di bombe. Ci sono anche dei nemici armati, allora ci fanno fuori senza pensarci due volte. Ora gli spaccherò la faccia. Sta durando tanto questa sesta parte, davvero. Ok, andiamo a prenderli. Sono infiniti, non finiscono mai. Stanno arrivando ancora. Perché non si fanno gli affari loro? Dovrebbero smetterla di inseguirci come fa il gatto nel topo. Adesso è finita. Io voglio sperare che vi sia piaciuta questa sesta parte di questa settima fase del gioco Tartarughe Ninja Mutante Manhattan. Ma ora è il momento di salutarci. Mettete un mi piace, iscrivetevi al canale come sempre. Un arrivederci da Gabriel Oster. Grazie a tutti. Grazie a tutti.